Siamo a Rocchetta al Volturno. Stefano Rufo è della frazione di Rocchetta al Volturno di Castelnuovo, ma ha vissuto qui tutti i migliori momenti della gioventù. Tanti amici, anche che lo sostengono da un punto di vista di voto, che è importantissimo in questo momento. I tuoi ricordi e dici qualcosa di Rocchetta. Sì, Rocchetta, come diceva Pietro, è il mio comune di residenza. Ci ho passato la mia più bella gioventù qui. Venivo da piccolo, addirittura le prime volte ho iniziato a frequentare Rocchetta, che venivo a fare judo a Rocchetta. Poi mi sono trovato con delle amicisi e non l'ho più abbandonato. Adesso addirittura la mia compagna di Rocchetta ho creato una famiglia e diciamo che Rocchetta è il mio comune. Cosa si distingue? Cosa distingue il comune di Rocchetta rispetto agli altri comuni del Molise? Rocchetta è un comune comodo, pratico. C'è tutto a portata di mano ed è in pianura, che è una cosa fondamentale. Poi comunque ha le sue peculiarità, le sue particolarità e le sue bellezze. Adesso vi porterò io in un bel posto. Vi porterò alle sorgenti del Volturno, dove nasce il fiume Volturno. Dove c'è una grande biodiversità. Siamo qui presso un luogo importante per l'Alto Volturno e per il Molise. Le sorgenti del Volturno. Questo Stefano ha un significato importantissimo. Quale per te? Allora, vi anticipo che da questo bacino proverrà l'ingrediente che userò domani nel piatto. Non proprio da questo bacino adesso, però parliamo nel passato, perché adesso è diventato autoctono e protetto. Però ci tenevamo a farvi vedere questo posto. Tu che stai passando alla storia ormai. Fai parte del promotore principale della Molisanità, di questo Molise, che tutti dicono che non esiste, ma tu l'hai riportato alla ribalta. Esiste grazie a te. Stai dando prova straordinaria del tuo estro creativo nella gastronomia, in particolari piatti che a livello nazionale sono apprezzati tantissimo. Sì, sì, sono molto apprezzati, stanno piacendo, sono molto contento. E sono contento di portare alla ribalta questa terra che fino a poco tempo fa era un po' bistrattata. Allora, la nostra terra non ha invidia in nessun'altra terra, in nessun'altra regione d'Italia. Abbiamo tutto, abbiamo tutto, non ci manca niente. Anzi, abbiamo pure qualche valore aggiunto. Abbiamo una natura incontaminata. Abbiamo un'acqua spettacolare. Abbiamo dell'aria che delle persone dovrebbero pagare solo quando vengono qui per espirare quest'aria. E poi tutto si mescola e va a finire nei piatti che diamo ai nostri ospiti. Parliamo di questo che è il secondo appuntamento che devi vincere per forza e ti dovrai scontrare di nuovo con l'Emilia Romagna domani. Vincere per forza? Io lo spero di vincere. Logicamente voi dovete aiutarmi. Io, come continuo a dire ancora un'altra volta, io ci metto la faccia in primis, faccio il portabandiera. Ma voi dovete votarmi. Sono molto contento. Siamo arrivati a due passi, dico, dalla finalissima. A due passi perché dobbiamo ancora eliminare un'altra volta l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è stata l'unica regione d'Italia che in finale ha portato due realtà. Ha portato Brisichella e Roncofreddo, quello che sfiderò domani a mezzogiorno. Poi ci sarà la Basilicata e in finalissima ci sarà il Friuli Venezia Giulia. Abbastanza dura come sfida, ma non ci fa paura perché il Molise è il Molise e Stefano Rufo è Stefano Rufo. Una considerazione, un invito al voto, come abbiamo fatto la settimana scorsa, così ci porterà fortuna. Ok, allora vi dico che da fisso bisogna digitare sulla tastiera del telefono 894-222 e poi digitare 1. Invece da sms consiglio di registrare proprio nella rubrica del telefono per evitare equivoci 478-478-4 e poi inviare un sms con scritto 1, che è il mio codice di televoto. Ricordo, 1 dai nemici, ma 5 dagli amici almeno. Speriamo che questo ci porterà fortuna e domani saremo tutti a festeggiare questa nuova vittoria con Stefano. In bocca al lupo! Crepi!